Lo psicologo di base, alla pari del medico, adesso è una realtà anche in Puglia. A tre mesi dal via libera della regione è stato infatti pubblicato l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli psicologi di base, così come è previsto dalla legge approvata dal Consiglio regionale. Proprio come avviene per i medici curanti, i cittadini pugliesi potranno beneficiare del supporto psicologico gratuito. È previsto infatti che la figura dello psicologo di base si è inserita in ciascuno dei distretti sociosanitari pugliesi, lavorando in stretta sinergia con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. I costi dell'assistenza prestata saranno a carico del servizio sanitario regionale. È prevista inoltre l'istituzione di un osservatorio regionale con funzioni di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività svolte. La formazione dell'elenco degli psicologi disponibili al servizio di psicologia di base è un ulteriore importante passo in avanti, ha commentato il commissario straordinario dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma. Certifica infatti l'intenzione del governo regionale di rendere concreto quanto previsto dalla legge regionale. Non possiamo che prendere atto con favore della pubblicazione dell'avviso a concluso il commissario. C'è tutto il tempo per far conoscere agli psicologi pugliesi questa opportunità e fare in modo che in tanti diano la propria disponibilità.